Facciamo insieme una fioriera primaverile. Scegliamo dei fiori di stagione come per esempio le dimorfoteca oppure i garofani. Magari cerchiamo di variare un po' con le dimensioni, quindi fiori grandi più indietro e fiori piccoli più avanti. Io ho scelto di stare sulle tonalità del rosa e del viola. Continuo col mettere davanti qualche piccola violetta e infine dei mio sotis bianchi per dare un punto luce e per tappare un po' i buchi. Ed ecco quindi la nostra fioriera. Per scoprire di più leggi la descrizione.